Per partecipare al concorso i titoli richiesti sono differenti in base al percorso che si intende seguire. Quindi per partecipare ai percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola dell'infanzia e primaria è necessario il titolo di abilitazione all'insegnamento conseguito presso i corsi di laurea in scienze della formazione primaria o analogo titolo conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente. Oppure il diploma magistrale, compreso il diploma sperimentale a indirizzo psicopedagogico con valore di abilitazione e diploma sperimentale a indirizzo linguistico, conseguito presso gli istituti magistrali o analogo titolo di abilitazione conseguito all'estero e riconosciuto in Italia ai sensi della normativa vigente, conseguiti comunque entro l'anno scolastico 2001 e 2002. Invece per quanto riguarda i percorsi di specializzazione sul sostegno per la scuola secondaria di primo e secondo grado, è necessario il possesso dei requisiti previsti al comma 1 o al comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo numero 59 barra 2017, con riferimento alle procedure distinte per la scuola secondaria di primo o secondo grado, nonché gli analoghi titoli di abilitazione conseguiti all'estero e riconosciuti in Italia ai sensi della normativa vigente. In pratica i requisiti richiesti sono l'abilitazione all'insegnamento o in alternativa la laurea magistrale accompagnata da 24 CFU nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, come riporta appunto il decreto legislativo 59 barra 2017 all'articolo 5,1, garantendo comunque il possesso di almeno 6 crediti in ciascuno di almeno 3 dei seguenti 4 ambiti disciplinari, pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione, psicologia, antropologia, metodologie e tecnologie didattiche. Per quanto concerne i requisiti di partecipazione per la scuola secondaria, è prevista anche la possibilità di presentare istanza ai candidati che hanno svolto nel corso degli 8 anni scolastici precedenti, entro il termine di presentazione delle istanze di partecipazione, almeno 3 annualità di servizio, anche non successive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11,14 della legge 3 maggio 1999 numero 124, su posto comune o di sostegno presso le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. Per annualità di servizio si intende il servizio prestato per almeno 180 giorni o il servizio prestato ininterrottamente dal primo febbraio fino al termine delle attività didattiche. Non è possibile sommare servizi che si rifiniscono a danni scolastici differenti per cui 180 giorni vanno calcolati solo per un anno scolastico. Sono inoltre ammessi con riserva coloro che avendo conseguito il titolo abilitante all'estero abbiano presentato la relativa domanda di riconoscimento alla direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione entro la data del termine per la presentazione delle istanze di partecipazione alla specifica procedura di selezione. Le selezioni sono aperte anche agli insegnanti tecnico pratici, infatti i requisiti previsti dall'articolo 5,2 del decreto legislativo 59 del 2017 per i posti di tp sono richiesti per la partecipazione ai percorsi di specializzazione nessun sostegno banditi successivamente all'anno scolastico 2024-2025. Sino ad allora rimangono fermi i requisiti previsti dalla normativa vigente in materia di classi di concorso. Per la preparazione ai test preselettivi del 15-16 aprile la tecnica della scuola propone alcuni corsi learning e webinar su alcune tematiche delle prove. Per saperne di più visitate il sito www.tecnicadellascuola.it e continuate a seguirci per restare sempre aggiornati su tutte le novità.